La sconfitta netta Siamo stati poco cattivi sotto porto oggi Ma a livello di intensità e aggressività Non posso dire niente ai ragazzi come sempre Una squadra che comunque ha giocatori Anche nomi di qualità Ma che fa fatica magari A essere incisi per in zona goal Sì sì La società ha operato nel mercato di riparazione Credo in maniera esemplare Non posso dire nulla Ora la squadra è completa Stanno noi venendo fuori questa situazione Non credo che abbiamo una squadra Una rosa da meritare quella posizione Però la realtà dice questo Adesso dovremmo cambiare qualcosa Psicologicamente come dovrai lavorare Nella testa dei tuoi giocatori Per cercare di ottenere questo obiettivo Salvezza? Ma la sconfitta di oggi pesa Perché ci siamo allenati veramente bene Sotto queste feste natalizie La squadra era convinta Di fare una grande partita Ma io credo che la partita noi l'abbiamo fatta Però sappiamo Nel calcio con dei risultati Il risultato ci abbiamo perso 2-0 E niente Ci rimbocchiamo le mani Che da martedì si lavora Daniele Marinelli Cancellata la sconfitta di Loreto Che oggi ha fatto un favore Alla rata Oggi la tua maceratesa Ha vinto e convinto Sì, sono contento Lo dicevo prima al collega Perché oggi era per noi Un bel bivio Insomma Perché venivamo Al di là della sconfitta Però abbiamo lavorato In queste due settimane Su questo nuovo gruppo Per amalgamare i nuovi Anche e soprattutto Sotto l'aspetto mentale E oggi sono veramente contento Perché hanno risposto Tutti alla grande Con grande sacrificio Grande impegno I nuovi I nuovi Scusate I neontrati Adami Che è entrato nella presa Bernacchini Hanno fatto differenza Lo stesso Mariani Ma oggi è stato Grande sacrificio Da parte di tutti Castellano Papa Che ha fatto gol Ma si è sacrificato davanti Ha fatto la guerra Con tutta la difesa Sono veramente contento Dell'atteggiamento E la squadra Questo è un atteggiamento Importante Che ci porterà lontano Inizio ripresa La possibilità Per il Chiesa Nuova Di pareggiare Forse lì si è visto Lo spirito di squadra Quel salvataggio Proprio da parte E tutta la formazione Nei pressi della linea bianca Da quello la sensazione Dello spirito Di questa maceratessa Sì oggi Io avevo in settimana Battuto un po' il chiodo Sul fatto che Prendiamo un po' troppi gol Diciamo che Noi dobbiamo difenderci In undici Se ci difendiamo In undici Ma lo spirito L'atteggiamento E lì è vero In quell'episodio Si è visto l'atteggiamento E poi quando è L'atteggiamento giusto Con le nostre qualità Riusciamo a A trovare la giocata Riusciamo a trovare L'episodio Riusciamo a trovare Lo spiraio Per poi Portare la partita Dalla nostra parte Difficile parlare Dei singoli Maggi Capaldi Ha sostenuto Una gran partita Sì Peccato l'infortunio Inizio ripresa Non so Penso sia una distorsione Adesso voluteremo Nei prossimi giorni Però ripeto Quando l'atteggiamento È giusto È uscito Capaldi È entrato a Dami Papa è andato Sulla fascia Papa ha fatto una partita Anche sulla fascia Di grande sacrificio Quindi Poi il risultato Non è cambiato Sottolino questo Atteggiamento Grande Atteggiamento Grande squadra Tre punti importantissimi